Non appena si è insediata a Palazzo di Città, il nuovo sindaco di Pozzallo Roberto Ammatura ha incontrato i vertici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, obiettivo avere contezza delle condizioni di alcune opere pubbliche presente nel territorio comunale. Attenzione quindi incentrata sui tempi tecnici per la parte riguardante la bretella di collegamento col porto, finanziata con 5 milioni a valere sui fondi Insicam e sulla costruenza stazione passeggeri. Per quanto riguarda la bretella di collegamento al porto, l'iter è già a buon punto e il Libero Consorzio ha già avviato le immissioni in possesso dei terreni espropriati per realizzare l'opera. Si conta quindi di trasmettere entro la fine di luglio all'Urega tutto il carteggio. Per quanto riguarda invece la stazione passeggeri, è stato illustrato al sindaco Ammatura l'iter complesser tortuoso per avere la disponibilità dei fondi e chiudere l'apparto, oltre che dalla scelta del commissario d'ora di carta Berlotte, di anticipare le somme per ultimare l'opera.